Signor Presidente, Codegno Zunieri, Signor Assessori, Dirigente dell'Ufficio. Io mi permetto di intervenire, non in ordine, all'eclinicismo e la delibera che oggi andiamo ad affrontare, propone nei suoi passamenti. Io invece mi permetto di intervenire solo assolutamente per ringraziare personalmente i componenti tutti della Commissione Eurbanistica. Perché le parole che il Presidente Stefano Plino ha detto in aula sono parole che, sono parole che credo non le immagino. In quanto avrebbe avuto la fortuna di rilevare questa incontruenza. Avrebbe avuto la fortuna di poter rilevare le incontruenze, già da un pezzo di finanza e i soldi in attenzione o per pubbliche, i papi rilevati. Noi, i Consigli comunali, abbiamo anche una responsabilità, non solo politica, ma anche dal punto di vista civile, dal punto di vista economico, sul patrimonio dell'Unione Consigliere. Cosa devo pensare a questo punto? Che attualmente l'Administrazione ha voluto trarre l'inganno nel Consiglio Comunale, inducendole in errore. E se oggi fossero stati alcuni consiglieri anziani all'interno della Commissione, che abbiamo ormai, non per capacità personali, perché non vorrei disinunere gli altri, ma per l'epoca in chiaramente, lavorato nelle Commissioni, sapendo per leggere i dispositivi, se non avessimo avuto la fortuna che nella Commissione c'erano consiglieri, abbiamo più di una legislatura sulla Stata, e cosa avremmo fatto? Votare una, abbiamo delle opere pubbliche, che non ha l'apertura finanziaria, e che, dagli interventi fatti in aula, sia dal Consigliere Dei Capri, sia dal Consigliere Scania, ancora oggi non ci sono. Questa cosa mi fa fermare. Se qualcuno pensa che si vuole liberare di questo Consiglio Comunale, un gerardo dei consiglieri stessi, ah, sbagliato. Se qualcuno pensa che il fatto di non essere in aula, lo allontana dalle responsabilità a questo punto in umano e prima, cioè poi di mettere sotto sotto il Consiglio Comunale, o di che poi, che non vi conosco più per diversi aspetti, ha preso un rosso a fai. Presidente, io mi riferisco anche alla sua persona, sono benissimo, lei è un presidente della Città di Funzioni, che il giorno del voto, in un modo o nell'altro, avremo un fine a questo stridicito, alla presenza del Consiglio, ma io la devo investire nel ruolo e ruolo, nella responsabilità politica, di attivizzare queste debiti che arrivano alle nostre commissioni. Io non sto più nepprezzando il Paese, troppe esperienze di attività ci sono, per far sì che una svista non compensare, non rinviare il bilancio. Possiamo considerare una svista, giustamente come diceva il Presidente Mercadino, da chi per mestiere, chi per mestiere fa il ragiontivo, il professorista, chi per, in cambio politico, ha fatto le previsioni dei conti che continuano a farlo? Presidente, facendo un attacco violento a distruzione così come un'altra. Lei ci vuole ripetere da due anni c'è grande della proposta. Non è possibile ripetere che nel 2000 dopo anni e anni che esistono i comunici, che esistono i piranti, ci si mette una volta in alta un piano delle opere pubbliche che non hanno per il previsione e quando c'è l'altro non ha la stessa con risoluzione o non ha. io consiglio questo questo modo di agire un attacco preciso al Consiglio Comunale e come dichiaravo quando mi ha intervistato il dottore Sardo a reddito del gruppo togliamoci subito questo piano si vuota non si vuota credo che sia un po' importante perché affrontiamo una fulmeria dell'amministrazione fulmeria perché portare dall'attenzione del Consiglio Comunale un primo anno di previsione con 11, 12esimi già impegnati credo che l'amministrazione avrebbe ma non tanto me sono opposizione convinta dovrebbero anche parlarsi i consiglieri di maggioranza perché non poi molti minimamente della programmazione politica della nostra città quindi queste publie queste passezze a noi non si toccano completamente anche lì abbiamo dimostrato come se ne fosse ancora bisogno di essere non preparati di essere capaci e a questo punto